Max mi sta addosso per queste consegne da Europa. Abbiamo già fatto lavori simili, non so perché ora ci tieni tanto. Mayday! Mayday! Qui in Caron de U, Jay-Z! Torniamo a Callisto! Prendi anche lui. Ehi! Cosa credi di fare? Io non ho fatto niente! Sono la dottoressa Kathleen Mahler. Per l'articolo 412 del codice penale del U, Jay-Z, le impiantiamo un dispositivo fuori. Ma che cazzo succede? Di là ho visto qualcosa. Mi ha attaccato e non sembrava umano. C'è stata un'epidemia. 75 anni fa. Proprio come sta capitando alla prigione. Hanno ucciso tutti per contenerla. Tutti quanti. Non è una coincidenza. C'è uno schema. Arcade, Black Iron, Europa. Qui non è questione di scappare. Non più. Sentiamo. Risposte! Presto tutto diventerà chiaro. Ora i vostri cori sono collegati. Devono solo sincronizzarsi. Non era un attacco teatristico. Jacob, che cosa hai lì? Quello che abbiamo... Qui non è a far tuo. Forza. Abbiamo del lavoro da fare. Avrei potuto fermarli. Ma non... Va bene. E lei? Ho fatto anch'io la mia parte. Non posso sfuggire. Appartengo a Black Iron. Sta arrivando... Il sopravvissuto. Mi dia solo quel cazzo di antidote. Non lo lascerò morire. Lei non è innocente come proclama. Ha dimostrato di essere pronto praticamente a tutto per sopravvivere. Mi dispiace. Per tutto. È questo il mio posto. Jacob! Scelta. Ogni scelta della vostra vita vi ha condotti qui, a questo momento, a questo posto. Jacob, forse c'è ancora una via di fuga. Ma lei dovrà aiutarmi. Benvenuti alla prigione di Black Iron. Jacob? Mi sente? Si svegli. Jacob! Cosa? Dove sono? Non ha importanza. Non si fermi. Il laboratorio è avanti. Le spiegherò tutto. Non si fermi.